Diventa definitiva l'assoluzione dell'ex rettore dell'Università di Teramo Luciano D'Amico perché il fatto non sussiste. La Cassazione ha rigettato il ricorso presentato a inizio anno dalla procura di Teramo che aveva sollevato in 20 pagine una questione di legittimità innanzi alla Cassazione contro la sentenza di assoluzione di D'Amico. La questione chiusa ora definitivamente è quella del doppio incarico di Luciano D'Amico come rettore dell'Università di Teramo e presidente del CDA dell'ARPA e della TUA, la società unica abruzzese di trasporto. Già il Tribunale di Teramo aveva sostanzialmente affermato che non vi fosse stata nessuna irregolarità nell'operato del rettore, il pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione, aveva proposto ricorso per Cassazione ritenendo che vi permanessero dubbi sulla regolarità formale perché era già stato assodato, il professor D'Amico aveva fatto il professore, il rettore, il presidente di TUA quest'ultimo incarico senza alcuna retribuzione e quindi la Cassazione ha poi sostanzialmente chiarito anche questo dubbio e ha ribadito la legittimità sostanziale e formale di tutta l'attività svolta dal professor D'Amico. La magistratura ha l'obbligo di perseguire notizie di reato laddove lo ritenga necessario, è vero però che in sei anni di rettorato ci sono state decine di esposti anonimi, denunce, acquisizione di materiale presso l'università a seguito ovviamente di queste denunce, blog più o meno indipendenti che comunque attaccavano continuamente il rettore, la sensazione che da libero cittadino io ho avuto, ripeto, in disparte l'attività che la magistratura legittimamente svolge e che in città ci fosse chi remava contro di fronte a un attivismo e un operato del rettore che non si erano mai visti prima in questa città e che quindi è come se questa città avesse messo fuori degli anticorpi per opporsi a un'operazione che invece stava soltanto facendo bene, a un territorio che negli ultimi tempi è eccessivamente impoverito.